Forse non tutti lo sanno, ma la prima parte di successo, tra virgolette, del mio canale YouTube è derivata da FIFA e dalle carriere allenatore. Crescendo poi mi sono sempre più disaffezionato a questo tipo di contenuti e la voglia di parlare di calcio ha preso il sopravvento. Ogni tanto però mi piace ancora bestemmiare dietro a questo gioco e addirittura su Twitch ho portato la Weekend League, la prima della mia vita in FIFA 23. E l'altro giorno avevo voglia di creare una carriera allenatore con la Juventus che è tornata ufficialmente a questo gioco dopo la parentesi legata al Piemonte Calcio. L'obiettivo era chiaro, creare un miniciclo di 4-5 anni partendo dalla buona base della Juventus già presente per il futuro. Per intenderci vari Locatelli, Chiesa, Bremer dovevano essere una sorta di senatori del senno di poi. Kean, Vlaovic, entrambi del 2000 partivano già da una buona base e potenzialmente potevano crescere tanto. Fagioli, Sulega, Attilin Junior, insomma questi qua potevano essere delle vere e proprie young star. Rovella, Cambiaso, Pellegrini, Dragosin e altri che già in prestito sarebbero poi tornati nella seconda annata pronti a giocarsi le proprie carte. Insomma si trattava di partire con calma con la rosa della stagione 2022-2023 e poi fare qualche piccola miglioria durante le stagioni. Max Allegri può tremare perché ora la Juventus l'alleno io. A tremare forse sono anche i tifosi bianconeri, ora vedremo. Ciao, sono Luca Toselli e prima di iniziare ti chiedo un mi piace a questo video. È una tipologia di contenuto abbastanza inedito e quindi aspetto anche i vostri feedback. Non saranno i soliti momenti salienti della carriera, almeno non solo, ma una vera e propria, non lo so, narrazione di quello che è accaduto. Aspetto di leggere i vostri commenti. E allora prima di tutto creiamo l'allenatore a mia immagine e somiglianza optando per un outfit di un certo tipo. Voglio provare a non farmi esonerare dalla Juventus in tuta. Una volta ufficializzato il tutto siamo pronti per partire. Prima cosa da fare è piano di crescita e ruoli dei calciatori. Non abbiamo un mercato attivo nella prima stagione, per un motivo non vogliamo farlo. La rosa c'è, è forte e dobbiamo cercare di sfruttarla. Utilizziamo quindi il patrimonio per riscattare prima Locatelli e poi Can, saranno due pilastri futuri di questa Juventus. Mandiamo in prestito un paio di giocatori in eccesso e ci siamo. Dobbiamo capire quale modulo vogliamo utilizzare per massimizzare i giocatori chiavi per far crescere questa Juve. Portiamo per il 3-5-2 sopra il 4-3-3, ma soltanto perché Kostic ci avrebbe messo circa sette anni ad imparare a fare il terzino sinistro. Con calma, Filip, tanto non abbiamo fretta. Tempo di utilizzare le tattiche personalizzate, offensive e difensive e ci siamo. Abbiamo già la rosa titolare. L'idea era quella di far giocare prima i giovani come i titolari e vediamo come va. Sarà infatti una carriera simulata, sarà il computer a decidere tutto. Erroneamente pensavo che comunque ragionasse in virtù della mia formazione titolare, ma poi vedremo che non sarà così. Esempio, se Fagioli e Miretti partano come i titolari, il computer magari può vedere che sono scarsi, più scarsi di Pogba e Rabiot che sono in panchina. E allora li faccio giocare, poi magari a fine primo tempo li sostituisco, ma intanto giocano e quindi crescono. E invece no, perché FIFA non è così intelligente, no? E francamente utilizzare alcuni giocatori più datati è fuori discussione, visto che stanno retrocedendo da giocatori di Serie A quasi ad amatori. Sta morendo Bonucci praticamente. È una morte lente e dolorosa quella di Bonucci, che non ci si può fare niente. Ogni secondo che passa gli si stacca una parte del corpo. Lo fidiamo senza una parte di faccia. Tra cinque minuti si scioglie. Povero Bonucci. In 4-4-8 simuliamo il torneo estivo e ci prepariamo per Resort in Serie A. Diamo una breve boccata al calendario e le prime due partite sono contro Inter e Lazio. Partenza soft proprio, no? Di quelle che ti danno la possibilità di ragionare sui tuoi punti forti, quelli deboli. Sì, sì. Conferenza stampa di vigilia e si parte. Decidiamo però di non simulare tutta la stagione subito, ma di guardarci un po' le partite. Il gioco però andava letteralmente troppo veloce. In pochi istanti siamo già a fine del primo tempo. E non ce ne siamo nemmeno accorti. Cos'è? Ah, già a 45esimo. Minchia. Il secondo tempo ci vuola via in pochi secondi. E a 10 minuti dalla fine... Ecco la fregatura. E il cronometro corre. Cioè, va proprio velocissimo. Ecco, gol dell'Inter. Porca troia. L'unico che non è dell'Inter, effettivamente. L'Inter purtroppo vince e la Juve delude l'esordio. Noi abbiamo fatto zero occasioni da gole, ragazzi. Zero. Ma noi non ci abbattiamo perché sì, la prima sconfitta con l'Inter pesa però. Abbiamo già una trasferta a Roma con l'Alassio che può tirare sul morale. Stessi 11 di prima e si scende in campo. La Juventra carica a pallettoni. Dominiamo la prima frazione di gioco. Possesso palla e occasioni da gol. Lassio annichilita! Fino al minuto 40. Adesso prendiamo gol in contropiede. Ma è incredibile! Ma abbiamo fatto noi fino adesso! Ma che cos'è? Ma guarda qua! Hanno messo il musetto davanti solo in quell'occasione ma sono stati freddi e cinici nel sfruttarla con il loro capo cannoniere e cero immobile. La Juve sta bene. Gioca. Domina. Becca un palo. Ed è sotto. Toselli non ci sta. Si gioca a qualche carta dalla panchina e prova a rimettere in piedi il match. Fortunatamente Dujan Vlaovic risponde presente e pareggia i conti al minuto 65. Secondo tempo di livello per la squadra di Sarri ma la Juve ha due grosse occasioni al minuto 90 e entrambe sventate dal portiere avversario. La Juve pareggia e dopo due giornate si ritrova con solo un punto in classifica. Partenza tosta. Il calendario non aiuta. Lecce in casa sì ma poi PSG, Milan, Napoli e la Soverone ben fica. Un mese davvero infernale per questa Juve che non è partita per nulla bene. Proviamo a simulare la calendario e qualcosa cambia. Arriva la prima vittoria stagionale per 4-1 contro il Lecce. Aumentiamo il tempo di gioco e optiamo per una nuova simulazione visiva contro il PSG. E' non consigliato tua mamma cioè... La prima in Champions vogliamo godercela. A Parigi vediamo finalmente un'ottima Juve in vantaggio dopo 5 minuti col gol dell'ex Moise Ken che troverà pure il raddoppio. Clip doppietta di Ken. La doppietta di Moise Ken! Il PSG non ci sta e alla mezz'ora accorcia le distanze con il gol di Vitigna. Al minuto 70 però ho un attacco di allegrite acuta che... Adesso è una serie, mettiamo in difensivo. 4-4-2 storto. Ecco. Oh ci siamo coperti un attimo. Ci siamo coperti un secondo. Abbiamo messo ultra in difensivo da 12 secondi. E torna normale. Abbiamo preso gol. Oh è proprio così sta Juve. Se molla un attimino, se inizia a difendere, basta. Finisce. Non funziona più. Non funziona più se inizia a difendere questa squadra. Non può difendere questa squadra. È inutile. Questa squadra deve solo attaccare. Alla fine però il 2-2 all'esordio in casa dei parigini è un ottimo risultato. Ce lo portiamo a casa volentieri. 2-2. Abbiamo già fatto meglio... Meglio rispetto alla Juve vera. Il Milan è pronto ad affrontarci. Ma la Champions porta via energie e siamo costretti a un po' di turnover. Purtroppo i campioni d'Italia si rivelano superiore a noi in tutto e per tutto. Andiamo sotto 1-0 a San Siro. Vlaovic la pareggia, ma è soltanto illusione. 2-1 rosso-nero all'ottantesimo. 3-1 dopo tre minuti. Vlaovic infilerà a tempo quasi scaduto. Un inutile gol del 3-2. La Juve è partita male. Malissimo. E la classifica parla chiaro. Però abbiamo un altro grande big match contro il Napoli che sembra una squadra più abbordabile rispetto al PSG e le milanesi, no? Purtroppo invece questa sarà la nostra caporetto. 1-0. 2-0. 3-0 per il Napoli. La Juve si sveglia solo per un attimo infilando il 3-1. Il Napoli però ha fame, è più squadra e allo stadium si porta sul 4-1. Ora purtroppo FIFA non ha ancora introdotto la modalità social all'interno della carriera allenatore. Quindi io non ho idea di quello che potessero scrivere in quel momento su Twitter. Ma io sono assolutamente convinto, anzi scommetto 100 euro che il trend topic del momento Toselli out. Ma proprio sicuro, eh? E con il tredicesimo post in classifica è ampiamente meritato. Un tredicesimo. Decidiamo quindi di simulare, no? Fino a gennaio da calendario sperando che possa esserci una rimonta magica. E cavolo. Hellas. Vinto 2-0. È incredibile. Benfica. Vinto. È incredibile. Monza vinto. Abbiamo battuto il Benfica e il Monza. Cioè abbiamo già fatto meglio. Vinto 4-0. Questi che non esistono. Vinto 3-0. Ma perché? Roma. Pareggiato. Pareggiato. Onesto. Spezia. Vinto. Il derby. Vinto. Questi. Stravinto. Atalanta. Imbattibili. Bologna vinta. PSG. Pareggiata. Cremonese. Vinto. Rega, basta non guardarli. Salernitana vinto. Benfica. 1-1. Ma passiamo il turno in Champions. L'Udinese. 3-2. La Fiorentina. Vinta. Di Cortomuso. Ultima dell'anno. Persa. Perso la Samp. Incredibile. E ancora più incredibilmente il 2022 della Juve si conclude come nella realtà. Il 2022 la Juventus lo chiude al terzo posto. A meno due dal secondo. A metà stagione abbiamo un Vlaovic dominante. un Ken sorprendente ma anche qualche sorpresina. Ah ma sta giocando Paredes? Ma perché? Sì ma Fagioli e Miritti non stanno più giocando. Neanche Gatti. C'è. Purtroppo FIFA ha deciso di sua spontanea volontà anche le formazioni iniziali. Fregandosene di quelle impostate da noi e bruciando completamente il nostro progetto giovani. Si è affidata praticamente sempre ai giocatori più importanti, più conosciuti e quello vero più alto. Ho quindi provato un'alternativa. Ho voluto tra virgolette cercare una truffa. Proviamo a ingannare il gioco. Perché adesso facciamo una simulazione veloce. Infatti il gioco non ci sta. Purtroppo si è rivelato sbagliato pure questo. Non siamo però messi malissimo. E attenzione perché ottavi di Champions e la classifica parla chiaro. Ha un punto dall'Inter. Con Milan prima. Ma possiamo ancora vincere lo Scudetto ragazzi? Decido quindi di simulare ancora una volta tutto il finale di stagione e concentrarmi già sul secondo anno. Pareggiata ragazzi non sappiamo più vincere. Cremonese vinta. Di corto muso ma vinta. Tre punti portati a casa. Pareggiata. Ora ragazzi cos'è sta pareggite? È meglio la pareggite che la sconfiggite. Niente la Sampdoria bestia nera ragazzi. Brutto mese cazzo. Speriamo che breve vada meglio. Fiorentina. Pareggiata. Minchia rega. Oh. Oh. Verona. Vinto 4-0. Dai. Champions. Oh 3-2 cazzo. Napoli. Vinto 2-0. Capolista Milan. Quanti ne prendiamo? Quanti ne prendiamo? 2-2. Onesto? Siamo passati. Siamo passati. Siamo passati. La Juve di marzo. La Juve di marzo. La Juve di marzo. È arrivata. È proprio lei. Empoli non ci fai paura. Non lo sappiamo. Il Real Madrid. La battiamo. Il Monza. Il Real. No. Siamo usciti dalla Champions con Reale ai quarti. Spezia. Roma. 1-1. C'è la Lazio. Vediamo. Vinto. Allora fermi un attimo. Fermi un attimo. Fermi un attimo. Perché siamo a maggio. Sono le ultime tre di campionato. Giusto? Sì. Purtroppo nel mezzo due eliminazioni in Coppa con il Reale ai quarti di Champions. Si può perdere. Ma in Coppa Italia contro lo Spezia anche no. Cerchiamo di capire la classifica in Serie A perché oggi l'unico titolo disponibile rimane lo scudetto. E mancano soltanto tre partite per concludere il campionato. Inter, Sassuolo e Udinese. Ce la possiamo fare? No. Perché purtroppo il Milan aveva già preso troppo vantaggio e la Juve dovrà condentarsi una qualificazione Champions dei quarti di finale in Coppa e dell'eliminazione in Coppa Italia con lo Spezia e quindi zero titoli. Bottino davvero magro. Stagione deludente. Simuliamo le ultime tre partite e ci ritroviamo al terzo posto in classifica dietro Milan e Inter. Al termine della stagione però ecco la brutta notizia. Federico Chiesa ha chiesto la cessione. No, 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 no. Lo ribadisco. Per la terza o forse quarta volta FIFA è stupido. Il piano allenamento per trasformare Chiesi in Edie non si applica da solo durante la simulazione anche se completato. È il giocatore titolare come esterno destro ma il computer ha deciso bene di escluderlo dagli undici titolari. E non una volta, eh. Non una volta. Non l'ha fatto giocare sto figlio di puttana. Mai. Ho giocato più che ai Orge. Sono sconvolto. Uno dei perni della squadra del futuro se ne vuole andare. Pessima notizia anche di fronte alla sorpresora Kostic. Ma Kostic ha fatto tredici gol e undici assist. Ma cosa? E notare i trentasette gol di Vlaovic ai ventisei di Ken completamente inutile alla causa perché alla fine non si è vinto una fava. Decidiamo quindi di iniziare a lavorare sulla Juve del futuro ignorando completamente Chiesa. No, no, noi Chiesa non lo cediamo di fronte a niente. Quadrado, Di Maria, Rabiot, Alexandro e tanti altri. Ciao, non rinnoviamo il contratto. Ci vediamo alla prossima. Facciamo due rapidi conti e capiamo che le priorità sono un attaccante per aiutare Vlaovic, Ken e Caio all'interno delle rotazioni. Un paio di difensori centrali giovani e titolari per aiutare Bremer e un esterno di riserva per Chiesa e Costi c'è la squadra completata. Aggiungiamo quindi qualche nome alla lista osservati e iniziamo qualche trattativa. E a tal proposito vi chiedo, nei commenti scrivetemi qualche nome anche per le prossime carriere che sicuramente ne sapete più voi di me. Il primo nome per l'elettroguardia è Sven Botman del Newcastle. Accontentiamo le richieste del club e del calciatore ed eccoci pronti ad annunciare il primo grande colpo estivo 2023-2024. Altro colpo in difesa a basso prezzo, ecco Giorgio Scalvini dell'Atalanta, giocatore a turno versi ma che comunque può crescere all'ombra della mole. Proviamo anche a riportare a casa d'élite per formare una difesa da urlo con Bremer e Botman. Uno dei problemi di quest'anno è stato proprio lì, prendiamo troppi gol e quindi cerchiamo di puntellare la difesa. E mentre Toselli, intelligentemente no, prepara il bunker del futuro, il presidente Andrea Agnelli conferma la fiducia nel tecnico. La permanenza viene appunto annunciata il 30 giugno 2023, anche se i dirigenti non sono del tutto soddisfatti della stagione precedente. E li capisco perché quando la Juve non vince è sempre brutto, anche su FIFA. Decidiamo di continuare quindi insieme un altro anno che dovrà essere convincente e questa volta passerà per forza di cose anche dal mercato. Riusciamo quindi a concludere la trattativa per il ritorno di d'élite e grazie all'arrivo di Botman e Matthijs mi sento molto sicuro. Chiudiamo anche per Serginio Dest che può diventare una buonissima soluzione sugli esterni insieme a Cambiaso che ritorna dal prestito a Bologna e a Costi c'è chiesa. Ad un certo punto però ci accorgiamo di qualcosa di veramente strano. Ah, Cambiaso, quell'altro. Ma scusate, ma dov'è Botman? Per qualche motivo ancora ignoto, Botman alla fine ha optato per un altro club. Non sappiamo quando, non sappiamo quale, sappiamo solo che alla fine non ha firmato per noi. È un po' come è accaduto al Milan quest'estate, no? Botman sembrava praticamente fatto e poi ha deciso di scegliere la Premier piuttosto che i campioni d'Italia. E quindi permettetemi una frase in francese, ma Botman sei proprio uno stronzo sia su FIFA sia in real life. Optiamo quindi per Timber come nuovo acquista in difesa per sostituire il bastardone. Davanti ecco due nomi francesi, Marcus Duram e Nkunku. Il secondo è in scadenza, ma il suo club non vuole mollare il colpo troppo facilmente. Trattativa sfumata, e vabbè, ce ne proveremo la settimana prossima. La Juve però inizia a prendere forma. Tech, Timber, Bremer, De Litt, Kostic, Miretti, Fagioli, Locatelli, Chiesa, Ken, Vlaovic. Questi sono i titolari. A disposizione Perin, Gatti, Danilo, Scalvini, Cambiaso, Pogbaro, Vella, McKennie, Sarginio d'Est, Caio, Sulea. Aspettando Nkunku e ovviamente l'accessione di qualche esubero. Insomma, l'idea è quella di continuare col 3-5-2, fregandosene di Chiesa che se ne vuole andare. Rimani, giochi e trascini la Juventus. Gestirsi la crescita di alcuni giovani e avere, non so, 2-3-4 over 30 a gestire il gruppo. Il fatto però, aveva un altro programma per noi. E per l'ennesima volta, torno a dirlo, FIFA è un gioco poco intelligente. Tra un'offesa a Botman e quell'altra, eccoci qua. Botman maledetto. No, scusami un attimo. Fermati un attimo. Questi mi hanno confermato. Non mi hanno fatto giocare nessuna partita. Nessuna partita. E poi mi hanno esonerato. Davvero, io non ho parole. La conferma è il 30 giugno e l'esonero il 3 di luglio senza aver giocato nessuna partita. E con il mercato iniziato. Ma sei stronzo. Ma vaffanculo te, le empoli. Andrea Agnelli sotto psicofarmaci avrà aperto Twitter e scrollato la timeline con milioni di toselli out. Non ci sono altre spiegazioni, diversamente da questo, o Botman, quel bastardone che sarà andato a parare maledì me alla dirigenza. Non riesco veramente a comprendere la decisione del gioco e quindi accetto per forza di cose, anche perché, insomma... Rega, non si può fare niente se non accettare le empoli. Cioè, non c'è un'opzione. Quindi niente, si conclude qui questo video strano e che mi immaginavo potesse finire diversamente. È stato un anno difficile, brutto, fallimentare e che poteva essere un punto di partenza nonostante FIFA. Diciamo che è stata più una palestra per me per capire come funziona una carriera simulata quest'anno. E se vuoi un progetto formato da giovani o da Federico Chiesa, non puoi lasciare gestire tutto la CPU, perché se no... Disastro. E alla fine, a pagarne le conseguenze. E Toselli. Che viene esonerato dalla panchina della Juventus, ma è pronto a farla pagare alla Juve, firmando per l'Empoli. Vado a l'Empoli! Ma questa storia ha pure un finale decisamente romantico. Io ho iniziato a giocare ai videogiochi calcistici, credo, con PES 2006. E se ricordo bene, in PES 2008, fu in grado di vincere la Champions League proprio con l'Empoli. Marchisio, Giovinco, Adani, Abate, Piccoli, Miceliza e Derre. Cioè, ma che rosa incredibile, vannucchi, raggi! Cazzo, c'era anche Antonini, incredibile. Che bei ricordi, però. Però gli acquisti di Gilardino e Messi furono essenziali per portare l'Empoli a festeggiare. Lionel e Seba Giovinco, ai lati del Gila che suonava il violino, e siamo campioni d'Europa. Questo è ancora uno dei ricordi più belli della mia infanzia videoludica, insieme a completare Pokémon Rosso con Charizard che brucia tutto di lanciafiamme. E il destino mi ha portato nuovamente in Toscana e nuovamente su quella panchina. E non è finita qui. Perché avrò la mia vendetta sulla Juventus e su Botman. In questa carriera. O in un'altra. Voglio provare a non farmi esonerare dalla Juventus in tutta.